Andrea Biondi siamo alla quarta settimana di fatto dalla riapertura delle piscine la situazione com'è beh ha ripreso il settore agonistico abbiamo riaperto le attività estive ora abbiamo riavviato i corsi tradizionali devo dire che dopo una prima settimana magari un po' di cautela ora stiamo andando non dico a regime ma comunque stiamo incominciando a vedere un po' di gente un po' di persone insieme si vince un gruppo che ha dimostrato una grande compattezza si può dire in questi mesi vi siete confrontati e servito insomma per cercare di aiutare tutti quanti a riaprire è stato straordinariamente utile l'unire le forze lo stare insieme il mettere a comune denominatore le competenze di ognuno di noi è stato secondo me determinante per prendere coraggio riaprire riaprire con grande entusiasmo cercando ovviamente di coinvolgere tutti dai collaboratori ma anche i nostri clienti e anche le istituzioni le sensibilizzare le istituzioni ai tanti problemi che purtroppo assillano ancora il nostro mondo il mondo dell'impiantistica pubblica ereditiamo da una pubblica amministrazione impianti spesso piuttosto vecchi molto energivori e credo che mettere a comune denominatore le nostre esperienze sia determinante anche nel futuro per la sostenibilità è un fattore importante è un fattore utile credo che insieme si possa certamente vincere questa nuova scommessa e questa ripartenza si fa squadra nel rapporto con le istituzioni nel rapporto con la federazione ma a livello di richieste ricordiamole quelle che sono le principali che avete fatto alle istituzioni beh la richiesta principale è di avere un po di respiro di avere degli allungamenti nella gestione degli impianti sportivi il numero di anni di gestione è fondamentale per quanto ci riguarda è evidente ci stiamo anche indebitando nei confronti del sistema finanziario ma se dall'altra parte non abbiamo un numero di anni compatibile rispetto a questo indebitamento risulta impossibile ripartire quindi stiamo dialogando su questo tema su alcuni sgravi in particolare parliamo della fognatura e della depurazione che incide in maniera importantissima nella bolletta dell'acqua e altre cose che si potrebbero fare insieme devo dire che sia a livello comunale sia a livello regionale ci stanno ascoltando cerchiamo di creare una rete insieme cerchiamo di fare questo per il bene della collettività perché poi fondamentalmente pensiamo che gli impianti sportivi pubblici sono frequentati soprattutto da un tessuto sociale dai cittadini da persone che evidentemente devono trovare dei servizi adeguati in impianti sportivi che non dimentichiamolo mai sono di proprietà pubblica ora lanciamolo anche un messaggio al pubblico massimo il vostro sforzo dal punto di vista della significazione dal punto di vista del nuoto in sicurezza assolutamente l'impianto sportivo la piscina è un ambiente sanificato per eccellenza c'è la presenza del cloro tutti devo dire a questo vale per tutti i componenti di insieme si vince e lo ricordiamo sono tutte le piscine gli impianti natatori della liguria abbiamo fatto veramente l'impossibile per garantire lo sport lo sport di base e lo sport anche agonistico in totale sicurezza